salve amici di sconton oggi vi portiamo alla piccantina pizzeria arredata con gusto e stile dove la pizza viene lavorata a mano da pizzaioli di grande esperienza facendo lievitare la pizza naturalmente cosa aspetti dunque vai alla piccantina in via santa maria del sangue 61 a cicatena il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info